e benvenuti in quello che un gioco di calcio molto particolare siamo di fatte su crazy characters xxl io personalmente non ne ho mai sentito parlare di sto gioco mai però vedendo dalle foto dall'immagine dove ho scaricato il gioco perché questa è una bandware come gli altri due di prima ma è una cosa particolare una sorta di calcio una sorta di fifa ma con gli animali una roba particolare quindi ho detto perché non provarlo a portare visto che già sul canale sto portando verso 2013 che tornerà e ho detto perché non portarlo anche se avrei voluto portare anche un altro gioco di calcio su spiaggia ma non è possibile perché non parte il gioco quindi e come sempre prima di iniziare vi invito iscrivervi al mio canale ad attivare la campanella della notifica per rimanere sempre aggiornati a passare su tutti i miei profili social che come ogni video dovete in descrizione a commentare a condividere il video e a passare sia sul canale di youtube che sul canale di odyssey dove dovrete tanti nuovi video ora iniziamo demo ma che devo allora abbiamo le uniche due squadre con cui possiamo giocare il bonsai rovers i peppermint cosa poi abbiamo la lizard sc la sauragnan united questo qui se ci farò la cosa sopra la west horn united dunque è nata la slu che questo è nata bella la banana fg la prime atletic ma cos'è per favore no noi rosso loro facciamoli arancioni così ho capito se se devo giocare io se sono cioè se l'altro team è comandato dal ah no è comandato dal dacosa vabbè ma nemmeno è bellissimo prendila 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 vai vai e senti ma no 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 corri 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 tira no è passato della merda ma è un qualcosa di troppo bello metto il tiro no pie baragos pie baragos no uuu uuu fuori dal mondo e finitava no no ma perché no dio che prendilo quella cazzo di bollo prendilo tira vai passa ma no cazzo vai ottimo passa no dio no no vai vai no sulla palla era abito era sulla palla questo pezzo di merda ragazzo dove cazzo lanci si vabbè fuori dal mondo a posto no 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 guata c'è bello vai no abidro abidro cornuto ma io non lo so oh dai nulla è così ma non ci voglio ma porco a due ma che coltella merda passa avanti palla libera no avanti abidro non c'era fallo ma prendilo cazzo prenditelo prenditelo porco a due e qui abito allora c'è anche qui il giallo oh passaggio centrale tira porco a due ah si può anche lanciare con l'arbitro si la vabbè che cazzo ho detto lanciarlo con l'arbitro no passa dai passa lui tiro di testa ma porco dove cazzo no madonna con il kick perché non è stato siamo stati noi a buttarlo fuori ma basta basta prendilo sta cazzone balla dio christian ti spacco un cenocchio no no cazzo che cazzo ho fatto per farsi fare autogol da mi c'è un imbecille piebaracus piebaracus no dio no ti prego ti prego ti prego ti prego no 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 ma dà ma porco di quello fa stavo per fare gol quell'altro cesso di tasto di merda dove l'ha mucciato quello vai vai passala tiro dove ti cozzo ti dico di passala dove no abito non c'è la pallo abito ma punizione dove non c'è ma dai ma che abito di merda punizione data che non c'era punizione perdete ste cazzo di pallone ci siamo beccati in un'espulsione per niente vaffanculo ci voglio credere la pallassava per entrare quel letto in bicicletta e manco l'ha vista no 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 ma è la presa per il culo dai raga è la presa per il culo ma dove si singlung cioè ci ha espulso un giocatore no ma è la presa per il culo si vabbè dove cazzo si vabbè però arvido se dobbiamo fare ste prese per il culo non vi dice prima vabbè non ho letto cartellino già tanto vai prendila prendila vai tu cazzo ti ridi di quella palla anche tu ma fate cosa sneak fate uscire sneak uscire questa palla di lardo qui no da 100 campo no perché c'è quello lì che c'è la i cosi così no dai dai vai 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 bastardo prendila prendila porca dici prendila cazzo di pollo il mio grugneccio ha fatto no no vabbè ha fatto letteralmente lo scorpione vai no cazzo non prendila ma non c'era non c'era arbitro ma porco cane ma che si imbecille era sulla palla arbitro era sulla palla arbitro non c'è però e te pareva te pareva rosso per niente ma rosso per niente e tu povero cristo che se ne va se ne va tu povero cristo si vabbè da dove no il film del primo tempo porco giuda siamo in 2 contro 5 vi voglio solo dire questo in 2 contro 5 la figura del merda passala passala avanti si vabbè tu sei un cesso lo cazzo tiri se ne è uno di questi gli sta avvenendo un infarto fra poco e oh fuori 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 si si il tuo cazzo lancio per l'altro quello che sta aprendo col portiere ma perché a questo punto da puoi creare sai creavi una squadra tutta tua mi mangereste le mani mi mangereste dai tu cazzo no no miglia se mi faccio vaffanculo vaffanculo che coglioni dove non stai a mio compagno niente quella semplice la evita da un ragazzo ci fa fare i conti sei anziano e non ci voglio credere credere no parola parola no 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 dai questa è una cosa per il cura dai ma bene di cosa cioè porco dici tetto a zero siamo vedo magari cappotto di Cioè l'abito è l'unico Che sta facendo un miracolo Cristo santo Cioè ma dai ma che presa per il culo Cioè veramente fa poco Fa poco chiudo Porco a due Bene vado Vedi a presa in giro Cioè veramente cappotto Porco di un cane Giuro mo faccio farlo Vabbè ma io so pure coglione Sono pure coglione Ma basta No basta 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 Figlia setta zero Ma sei un scemo Vediamo il tournament Ah Possiamo farne anche uno nuovo Noi Ah Possiamo creare uno così noi Ehm Vado La salvage Madonna è uno di quelli che ti fa fare la scritta iOS grande Vabbè Savage Cap Vabbè No Facciamo il 2 per 10 minuti Tarto tournament Andiamo a vita Dal torneo Ok Questo mi ha sorpreso Ah ma è acqua Quella Scusate questo è chi dovrebbe essere l'arbitro Ma spenda Questa è tra i più belli in assoluto Candalo Che cazzo è wrestling Dio cristo Cazzo è Cazzo è Cazzo è Io ho però visto la cosa più bella in assoluto Cioè dai Ah ma questa è la carriera Allora devo scegliere 3 75 76 76 75 Allora scelgo Ciancio Ah no Questo è comunque l'allenatore E scelgo 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 76 76 75 E scelgo lui Velocità Potendo 75 Potendo No Ma Scelgo lui come velocità Passa Con la X A che cazzo Passa 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 0% 0% 0% 0% Ok Siamo a 2% Siamo a 3% E' E' Abbiamo Però che Siete infami Eh Fregato 1 Fregato 2 Eh però Cazzo No Poi l'abbiamo Soggettolo Dritto Di nuovo Di nuovo Dritto Ci ho perso Alla traversa Ma seriamente Ah Devevo parare Stavolta Fa solo L'abbia Portiere Ma è stupido Ma è stupido Vabbè Sì Fai la stadion Avremo fatto Una delle più Grandi Merdate Una delle più Grandi Merdate Salvage Gappo Ah no Era il nome Ma porco Pensavo che fosse Il nome del coso No Ma già Che cavolo Apri Molto Cosa No Eh Abitolo Giallito Bravo Arbitro Passaggia All'indietro Con Cosa che avanza La passa Coso Che nemmeno La prende Quella cazzo Di palla Nemmeno La prende Tira Coso No Perché Porco Dove Ma dai Dio Cagnaccio Non ci voglio Dai Non ci voglio Crede Che stavo per fare Quella Merda Me l'ha Me l'ha tolto Per niente Ma dai Ora sta pure laggando Il porco Del gesuita Ma si No Va bene fuori Si No Non ci voglio Non ci voglio No ci voglio De vuxi E Non ci voglio Vi Dio Kawhi sì sì vabbè tira no fuori mica però ho capito come fare adesso con la z passo e con la x tiro invece abbiamo sbagliato perché pensavo con la x ma no non mi posso far fregare così tira ma porca due ecco proprio che prima ho perso parca geta no ma sto abito è un killer tira sta cazzo di palla da cento campo volevo fare la provata volevo fare una cosa prenda no che poi la palla mi finisce nella risaio mi finisce presa me l'hanno rubata vai corri imbecille ma da onde è che parada vai ma perché non passa perché non tira tira ma tirala prendila imbecille passa avevo avevo voluto passare a qualche mio compagno davanti ma porco due ma prendila ma sto portiere fa c'è ti ho fatto lo scorpione porco cari no c'è no c'è no c'è no c'è no c'è no quello no quello no scorpioncino scorpioncino no vabbè vabbè io non ci voglio credere ma qui non ci abbiamo cosa eh arbitro rosso addio passala do cazzo la tiri passala bravissimo ah voleva farlo furbo mi sembra che ancora siamo a primo tempo quindi ancora c'è la possibilità di portarci a casa tiro ma perché non tira perché è bello sto non so che cazzo d'animale sia arbitro è fantastico siiii e finalmente e finalmente e finalmente 3 a 1 la squadra della savage cup si porta a casa si porta a casa il primo gol che bastardo stava anche per prendere c'è un pezzo di merda bravissimo cronc non c'è nessuno guarda piglio 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 fantastico e finisce il primo tempo Continuiamo Sezione primo difensore Allora Difensore, 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 difensore Come difensore scelgo lui Come secondo difensore Scelgo lui Stai che è lui Stai quando stai che è lui Mi hanno fatto un gol Mi hanno fatto di nuovo un gol Allora eravamo 3 a 1 Allora siamo 4 a 1 Che cosa succede Ah no No Prendila Becille Dove cazzo la tira quell'altro Dove cazzo la passa Prendilo postor Ma hai detto Ma vai avanti Prendilo 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 Vai là fuori Vai là fuori Perché tu stavo Quell'atto Perché era andato fuori L'atto Rambicille Vai Vai Prendilo 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 Traversa Traversa Siamo pure in maggioranza numerica La prendete sta canzone di mano per favore Tu per grazia divina mi Non me mi crevo un timo tutto mio con blackjack e squilla di lusso Qu'era stiamo fermi tanto che spacca bene fotte Corri, corri Corri Corri, corri Bastardo ma sarà Tito no no non ci voglio credere per una volta che eravamo riusciti a fottere palla per una volta che eravamo riusciti a fottere palla e arbitro oh porco di quello vado da tutta parte passa a farlo per dritto non per l'altro mmmm oh Ma fa culo Sei stupido Prendetela Ma porca Io però sto giocando con Che cosa? Non con il gamepad Ma con il controller Maledizione Ma prendi E quell'altro esce fuori Dando Basta Sì vabbè Oh no Ma non che ti andava a toccare Ti andava a toccare Ti andava a toccare Pazzo 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 No 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 Sì 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 No no sì No Sì Sì Slarum Tira No Quella era lontanissima Quella cazzo mi ha fatto A prendere la palla Era sulla palla Arbitro Era sulla palla Arbitro Pià NHHHH Mijet Ateh tu hii Zlarum Ti andava Benita 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 Vai va vai passerà no troppo avanti troppo avanti troppo avanti vai 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 zonarum zonarum blocco no vai vai no ma perché prende palla anche se la dughi lo vanno a vedere quello che non mi tocca porco di velma ma non posso farmi fare gold siamo già 6 a 1 ma che ho preso per i fondi ma non almeno e anche il giuletto va fuori quindi ora giochiamo e la partita finisce con il decavingono e non è che è finita la partita o meno bene salviamo e riusciamo lupacchiotti che dire spero che questo primo episodio di crazy kickers vi sia piaciuto purtroppo non è iniziata nei migliori dei modi perché abbiamo beccato una batosta però siamo riusciti comunque a fare un gol e lupacchiotti che dire come sempre prima di salutarci vi invito a iscrivervi al mio canale ad attivare la campanella delle notifiche per venire siamo aggiornati a passare su tutti i miei profili social per come ogni vabbè come sempre vi invito anche a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione come sempre vi invito anche a supportare il canale con un mi piace con un commento con la condivisione con l'iscrizione al canale vi invito come sempre anche a condividere il video con amici, parenti, ipotechini appena metta vi invito anche a iscrivervi ad attivare la campanella delle notifiche per venire siamo aggiornati vi invito anche a lasciare un commento e a passare sia sul canale di youtube che sul canale di odyssey dove troverete tanti nuovi video e niente e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao